In una corsa contro il tempo, Giappone e Giordania stanno cercando di salvare la vita dei loro connazionali nelle mani dell'ISIL. Mentre sono in corso e colloquio, il sedicente Stato islamico ha lanciato martedì pomeriggio un ultimatum di 24 ore, minacciando l'uccisione dei prigionieri se Amman non libererà una donna irachena condannata per terrorismo. È un atto spreggevole, ha detto il premier giapponese. Sono profondamente indignato. Ho disposto che si collabori con la Giordania per permettere il rilascio di Kenji Goto il più presto possibile. Kenji Goto, giornalista giapponese ostaggio dell'ISIL da ottobre, insieme a lui c'era anche Aruna Yukawa, decapitato lo scorso 20 gennaio dai miliziani. Ora la minaccia investe un altro prigioniero, un pilota giordano. Gli jihadisti che puntano un riconoscimento politico attraverso lo scambio di prigionieri, pretendono la liberazione di un'irachena in carcere ad Amman, condannata per una serie di attentati in cui sono morte 60 persone.